Secondo giorno di Etna Comics, in verità lui era già qui ieri, c'è stato un incontro veramente molto molto bello, benvenuto a Caparezza. Grazie, grazie. Direi bentornato a Catani in effetti. Sì, beh, io torno di solito per cantare, questa è la prima volta che vengo qui per parlare, è un'esperienza nuova, però interessante perché siamo in un ambito, quello per quanto mi riguarda dei comics, che è un ambito in cui sono molto a mio agio perché è una passione, e non è un lavoro, semplicemente parlo da appassionato. Da appassionato che è a sua volta un fumetto vivente, perché rappresentare graficamente Caparezza, e lo hanno fatto in tanti, è semplice, è bello perché è riconoscibile la tua icona. Esatto, sì, forse se mi tagliassi i capelli per dare tutte le forze. In realtà, sì, anche quando mi si dice che sembro un fumetto vivente, o che comunque gli spettacoli che faccio sembrano usciti fuori da un fumetto, mi fa piacere, ma in realtà non capisco mai dove si voglia andare a parare, perché essere un fumetto significa tanto e poco, nel senso che noi abbiamo ancora un'idea un po' infantile del fumetto, nel senso che va bene, c'è, ma in realtà oggi è un linguaggio, oggi da un bel po' di anni, è un linguaggio per tutti, anche per gli adulti, insomma, affrontano anche temi estremamente complessi attraverso il fumetto, quindi in qualche modo comunque mi lusinga. È una cosa bella perché c'è di mezzo sempre l'immaginazione, ma tutto questo è stato declinato molto bene, nella chiave che tu ora spiegherai, nel progetto grafico insieme a Simone Bianchi, perché è la versione pop-up di Exuvia, che in realtà era già anticipata, cioè io quando ho ascoltato Exuvia mi aspettavo qualcosa del genere dopo, non potevo certamente immaginare questa operazione, che è arrivata subito dopo l'album. Il mio desiderio era originale di creare un libro con allegato cd, e questo libro doveva avere vari pop-up, varie pagine che si aprivano in 3D, ciascuna dedicata ad una traccia di Exuvia, ma era una cosa irrealizzabile, soprattutto dal punto di vista economico e produttivo, e così alla fine abbiamo sintetizzato in un unico paginone, che poi si apre e viene fuori tridimensionalmente, proprio aprendo il vinile. Per fare questo ovviamente avevo bisogno di un disegnatore, Simone Bianchi è veramente un grandissimo disegnatore e illustratore italiano che io apprezzo tantissimo, così ho bussato alla sua porta e lui si è prestato, e ci siamo divertiti a fare questa versione alternativa, almeno nella grafica. Perché poi c'è l'Exuvia Experience sul web, che io ho fatto e mi sono persa, però ho scoperto una cosa che in realtà nell'inconscio sapevo già, che per ritrovarsi bisogna perdersi. Ma sì, questa è una frase che significa poco per me, nel senso che secondo me è meglio non ritrovarsi. Esatto. Cioè, non è bello capire che non è sempre colpa degli altri, che anche noi abbiamo una percentuale di responsabilità sulla nostra vita. In verità in questa selva meravigliosa che guida nel mondo di Caparezza e riesce però a spiegare veramente l'album, cioè chiaramente la musica è un fatto interpretativo come l'arte in genere, però in questo caso ci hai guidati attraverso questo percorso con degli elementi in più. Sì, perché questa esigenza del percorso in rete in un bosco virtuale è nata perché il disco è uscito in piena pandemia, non proprio piena piena, ma stavamo venendo fuori e quindi non potevo fare i miei soliti incontri. A me piace molto comunque incontrare le persone e spiegare le cose creando comunità. In quel periodo era praticamente impossibile, allora decidemmo di portare le persone dentro il web, tanto sono tutti già per la sacca di maggioranza abituati, e abbiamo creato il bosco virtuale. In questo bosco virtuale ho cercato di far entrare tutte le ispirazioni del disco, tutte le sottoletture, ho cercato di spiegarlo. Tant'è vero che ancora lì, insomma, ho rinnovato il dominio perché finché non uscirà qualcos'altro di mio Exuvia, rimane ancora un disco vivo per quanto mi riguarda, e quindi insomma se volete perdervi nel mio mondo, nel mio bosco mentale, exuviaexperience.com è lì per questo. Fatelo, molto interessante. Fra l'altro, visto che stiamo parlando di selva e visto che tu dicevi, beh, fumetto può essere interpretato in vari modi, nella mia immagine tua del fumetto in realtà io penso ad un albero, ma non per la chioma. La chioma è quello che vedi fuori, ovviamente, si sa che le radici sono molto più estese della chioma. Io in un pezzo che si chiama Exuvia ho scritto il futuro, il segreto è fare come gli alberi, prima cerchi, dopo tronchi. Negli alberi ci sono prima i cerchi e poi diventano dei tronchi. Nella vita bisogna cercare e poi non accontentarsi, troncare e cercare altrove. L'unico modo per mantenere, diciamo, la scintilla accesa, la fiamma accesa. Quindi sì, in questo senso mi sento un albero, perché sono sempre inquieto, sono sempre alla ricerca di qualcosa, non riesco mai a stare fermo in una posizione di comodo. Il problema è che, tu lo sai, l'ultima traccia di Exuvia è proprio Exuvia e ha fatto un po' preoccupare noi fan, anche se la preoccupazione secondo me non può far parte del mondo di noi fan di Caparezza. C'è la trasformazione, se stiamo parlando di Exuvia arriverà qualcos'altro magari? Sì, in realtà non so dirti altro, perché quel qualcos'altro potrebbe essere qualsiasi cosa, non necessariamente musicale, non necessariamente artistica, tutto quello che dico potrebbe essere smentito dal mio essere altalenante, dal mio non essere sempre centrato sulle cose che vorrei fare. Quindi, chi lo sa, e comunque racconta Exuvia la trasformazione e il capitolo della trasformazione. Quel che avverrà non lo so nemmeno io, mi sto godendo questo limbo e vediamo che succede. Ce lo godiamo anche noi, l'attesa è una cosa bella, forse non la valorizziamo abbastanza. Grazie a Caparezza. Grazie a voi, grazie. Grazie.